Uè non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice creator. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Can you hear the scream in the ocean? Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDERONE e ragazzi, ed sì, ultimo giorno dove troveremo il quarto teaser! Pezzo del puzzle mancante per completare il quadretto che andrà a rivelare totalmente ciò che ci aspetteremo nella stagione numero 8 di Fortnite. Nel video di oggi ragazzi parleremo di alcune teorie nuovissime, sapete che qua le informazioni girano ora per ora relative ovviamente alla nuova season. Non mancheranno le terremoto news, lo sapete che ci tengo a tenervi aggiornati sulle ultime tre crepe che mancano per completare tutte quelle che dovevano apparire. E attenzione, boss! Perché boss? Perché sembrerebbe che ci sarà un nuovo metodo di gioco nel battle royale. Non dimenticatevi ragazzi di lasciare un bel pollicione in su, se vi piacciono i miei video, non dimenticatevi assolutamente dove cavolo è finito! Di attivare la campanella e grazie, grazie di cuore per utilizzare quando shoppate il mio codice CREATOR, XIUDERONE. Grazie davvero per il grande supporto! Ma prima ragazzi, la domandina, ve la devo fare, la domandina, una delle ultime della season 7 ed è una domanda molto interessante. Ve la faccio subito. Quale sarà, secondo te, la skin del livello 100 del pass? Quindi la skin finale del pass battaglia? I vostri commenti, ragazzi, li voglio leggere proprio qua sotto. Secondo me, la skin finale, secondo me è un pirata. Secondo me è un pirata, ragazzi. Voglio sapere cosa ne pensate voi. Ditemelo qua sotto. Ma quindi, ciancio alle bande! E bando alle ciance! Andiamo subito, velocissimi, a vedere il teaser, quello che è uscito ieri, quindi qualche ora fa. Lo abbiamo già visto tutti sicuramente. Sopra di me si nota tranquillamente una testa di un animale. Che si pensa sia una tigre, date le zanne, ma potrebbe essere qualsiasi animale mitologico. Ho dimenticato di dirvi una cosa, ve la dico molto velocemente adesso. Siamo con gli amici del gruppo Telegram di Fortnite Italy. Trovate il link in descrizione. Mi raccomando, seguite anche loro, dategli un'occhiatina. Questa tigre, ragazzi, o questo animale, è molto interessante, anche perché lo rivediamo in questa immagine colorata da qualcuno e evidentemente la forma è ben chiara, i colori sono nitidi e si capisce benissimo essere veramente fuori di sé. Non lo vedo molto amichevole questo e garantisco non è un serpente. Questo però vuole anche dire che dopo aver visto i serpenti di due giorni fa, ieri abbiamo visto anche la tigre. Non è che magari oggi arriva un altro animale mitologico. Potrebbe non essere un errore di valutazione, ma ve ne parlo più avanti in questo video. Potrebbe arrivare. Notiamo anche intanto, ragazzi, il quadretto, quindi i tre teaser collegati e come vedete sta formando chiaramente un'immagine ben definita. Quello sembra essere un teschio. Sembra anche che sotto ci sia un vulcano che sprigioni fiamme. Non a caso Bosco Blatterante sta appassendo di brutto, ragazzi. Sta veramente diventando arido. Non vedo l'ora della season. Numero 8. Ma andiamo avanti, ragazzi. Eccolo qua. L'animale di cui vi stavo parlando. Lo sapete che animale è, ragazzi? Bravi. Chi è l'antagonista più grande dei pirati? Il Kraken. Perché, ragazzi, parliamo di Kraken? Ne avevamo già parlato parecchie settimane fa. Era già trapelato qualche cosa, ma non volevo approfondire perché i leak non mi sembravano affidabili. Però, ragazzi, vi sto per mostrare un'immagine che vi fa venire il prurito al basso pube. Ed è una cosa assurda. Vi chiedo di prendere questa immagine coi guanti, ragazzi. Io ve la faccio vedere. Non lo so. Sbrook. Excuse me, che cazzo mi fai vedere? Excuse me, ma che cos'è sta roba qua? Ragazzi, voi non avete capito che cosa state vedendo. Dreisher è il nome di uno degli sviluppatori di Epic Games e da qualche ora sta girando queste immagini perché, come vedete, se andate a notare la Plane e Game, quindi nel suo profilo di Discord, fa vedere che lui sta giocando a un gioco Fortnite Private Test Server. Quindi sta facendo dei server privati di test, quindi sono i test interni del team di Epic Games e, porco mondo, il test server si chiama Build, che è la... Build vuol dire pacchetto del nome del server in poche parole. S8, che sta Season 8 de Kraken. Però c'è anche scritto LTM 023 e dei numeri. È un'immagine da paura, raga. È uno screen da paura, se fosse vero. Se fosse vero. Vorrebbe dire che questo genio del male ha spoilerato violentemente la cosa più figa della Season 8, che potrebbe essere questo Kraken. Quindi è quello che vedete alle mie spalle. Ve l'ho fatto vedere prima. Il Kraken è proprio questo polipone enorme. Dai, avete visto tutti i Pirati dei Caraibi. Non vi sto neanche a dire che cacchio è il Kraken. Secondo voi? Secondo me è un'immagine interessante. Però non lo so. Non lo so. Mi lascio il... Non lo so. La cosa di non confermare questa immagine. Voglio che voi pensiate con la vostra testa. Ma andiamo avanti, raga. Le terremoto news, raga. Le terremoto news, quando ci sono, io non capisco più niente. È arrivata, ragazzi, la crepa numero 22. Ne mancano solo... Avete visto dov'è la crepa numero 22? È apparsa indicativamente alle 10 e mezza di ieri sera. Eccola qua, ragazzi. Ve la sto mostrando con il cerchio giallo. Crepa numero 22 nella parte esterna di Bosco Blatterante. E come vedete, ragazzi, ve la faccio vedere un po' meglio. Eccola qua, un'immagine un po' più dettagliata della crepa. E torniamo un attimo all'immagine precedente. Guardate quante crepe non hanno praticamente preso una forma ben precisa. Quindi la domanda è, non è che per caso la mappa si, si divide in due, ma tipo... Cioè, immagina che questa è la mappa in questo modo, con dei frastaglioni, non so come cavolo dire. Cioè, non due blocchi puliti, due blocchi con magari dei pezzi che escono, non lo so, ragazzi. Diciamo che queste crepe non sono assolutamente uniformi. Ma andiamo avanti e questa è un'altra cosa interessantissima. Qua invece è vero, lo sapete, magari alcuni l'hanno già visto. Siamo nella pagina Twitter ufficiale di Donald Mustard, il nostro caro Donald, oramai ci tiene sempre belli aggiornati, il cappuccione di Epic Games, porco mondo, mi twitta la chiave, ragazzi. Quando il Donald mi twitta la chiave, a me mi sale il bragazzo. Quindi, porca miseria. Le domande sono tante. Perché il Donald mi ha twittato la chiave quando io sono concentrato sul teaser numero 3? Adesso cosa vuol dire? Te lo dico io. Si parla di una grotta segreta. E, se andiamo a leggere anche la descrizione di questo teaser, parla di un tesoro nascosto, protetto dalle bestie, come lo chiama, come viene tradotto. Il che vuol dire, ragazzi, che potrebbe esserci qualcosa da andare a prendere durante il Battle Royale e che possa includere dei boss in game. è una teoria, ma è una teoria molto interessante e probabilmente quasi veritiera. Magari no, ma magari sì, ragazzi. Boss in game che ti danno del mega loot. Insomma, ragazzi, io non lo so. Come sempre cerco di tenervi aggiornati in base a come si aggiorna tutto il mondo di Fortnite. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Condividetelo con i vostri amici. Noi ci vediamo alle 13 in live. Ciao!